Io penso che anche questa sia una piccola beffa per noi, questi tre punti, perché secondo me mi aspettavo di più. Però comunque sia, sono tre punti che servono sicuramente per la classifica, per darci un po' di morale, per rimetterci sempre più tranquilli nel discorso della salvezza, quindi ben venga anche questo fatto qua. Già da martedì, concentrati sul Prato, cercando di capire tutte le sue caratteristiche, dobbiamo essere bravi a evitare la loro pressione alta, quindi ci siamo messi a lavorare su come venire fuori dalle pressioni di un 4-3-1-2, che sarebbe la disposizione che hanno loro, con le giocate che abbiamo a disposizione. Ma a me la cosa che mi piace dire è che il gruppo mi dà grandi soddisfazioni come domenica, quando subentrano altri giocatori che magari hanno giocato di meno e sono pronti, e riescono a esprimere anche loro le loro potenzialità. Significa che c'è un pensiero unico da parte di tutto lo spogliatoio, c'è la voglia di far bene da parte di tutti, che nessuno per dirti sta qui a perdere tempo. E quello secondo me mi dà grande soddisfazione all'allenatore. Lì il campo, oltre ad essere piccolo, sicuramente non è uno dei più belli che abbiamo trovato. Quindi per una squadra come la nostra, sempre proiettata, a giocare palla a terra, a cercare soluzioni in fase di possesso palla, sicuramente qualche difficoltà in più ce l'abbiamo. Però possiamo benissimo anche giocare con altre caratteristiche, cioè a ricercare un attimino più velocemente il vertice, ad andare un pochettino anche sulle seconde palle in avanti. Secondo me una squadra deve anche adattarsi a queste difficoltà che si possono trovare durante un campionato.